Bene, adesso è ora di tornare a casa. Grazie di cuore per quello che avete fatto, grazie per la vostra partecipazione, grazie per il dibattito, grazie per l'entusiasmo. Io ce la metterò tutta. Forza Italia, forza Italia. Mandiamo un grande applauso a Silvio Berlusconi che ci ascolta dall'assù. Noi ci siamo, saremo leali con i nostri alleati, non hanno nulla da temere da noi, ma nessuno può chiederci di rinunciare alla nostra identità. Noi siamo Forza Italia e andiamo avanti così.